14 anni fa questa casa cantoniera era totalmente vandalizzata e su questo terreno c'erano soltanto macerie. Abbiamo accolto l'invito di padre Nicola che ci ha chiesto di camminare con lui in questo tentativo di lotta alla disoccupazione. Padre Nicola ma è il soldo? Chi ce li dà? Chi ce li dà? Ha detto la providenza. Qui cosa facciamo? Qui ci sono dei ragazzi che diversamente non avrebbero l'opportunità di capire cosa è più adatto per loro. Mi hanno aiutato a prendere la terza media. Dopo la terza media mi sono iscritta a scuola di fariciera. Sono Cosimo, ho 21 anni, vivo a Taranto in una casa famiglia. Sono venuto a fare il laboratorio di pasticceria con la signora Ida Gentile. Quindi sarà il tuo futuro fare il pasticcere? Speriamo. Speriamo nella providenza.